Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi Rimanete nel mio amore Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena Questo è il mio comandamento Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi Nessuno ha un amore più grande di questo Dare la sua vita per i propri amici Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio L'ho fatto conoscere a voi Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri Faccia bene amici e ben ritrovati in questa quarta domenica dopo la Pasqua secondo il rito ambrosiano Il brano del Vangelo di oggi va subito situato in un contesto ben preciso che sono i versetti che lo precedono E riguarda l'immagine e la simbologia della vite e dei tralci Una specie di allegoria diciamo più precisamente Noi siamo i tralci Gesù Cristo è la vite Senza di lui non possiamo fare niente E se il tralcio che non è inserito bene dentro la vite secca Non è destinato, non serve altro che essere bruciato Questo è il contesto E qui nel Vangelo di Erno c'è una serie di richiami da parte del Signore Che ci invita a prendere coscienza di quello che noi siamo e soprattutto ad agire di conseguenza Vi lascio un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come poi io vi ho amato E subito prima c'è un'espressione che risulta essere molto significativa, importante e impegnativa Consolante da un certo punto di vista Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda Qualsiasi cosa chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà Sono espressioni che troviamo dentro il contesto del capitolo quindicesimo di Giovanni Il cui contesto più preciso riguarda appunto l'allegoria della vita dei tralci E noi ci chiediamo ma è proprio così, succede proprio così Veramente tutto quello che noi chiediamo al Padre nel nome di Gesù Il Padre è disposto a concedercelo A una condizione perché di fatto noi facciamo l'esperienza, un'esperienza contraria Non sempre molte volte quello che chiediamo al Signore, non sempre il Signore ce lo concede Perché questo? Perché questa promessa, questa profezia, questo impegno che Gesù si assume Qualsiasi cosa chiedete al Padre nel mio nome ve lo conceda? Perché Gesù pronuncia questa profezia e ci garantisce questo Quando di fatto noi facciamo l'esperienza nella vita che non riceviamo tutto quello che chiediamo Il motivo è questo, che noi non siamo dentro il suo amore E allora chiediamo quello che non ci ha bisogno Quello che a lunga scadenza ci farebbe male Quello che è improprio Quello che non è assolutamente necessario e nemmeno utile al nostro cammino di fede E allora questa profezia si avvererà se noi rimaniamo nel suo amore E come si fa a rimanere nel suo amore? Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore E qual è il comandamento che io vi lascio? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato Questo impegno, questo comandamento però molto serio Che coinvolge tutta la nostra esistenza, la nostra vita E risulta essere alcune volte gravoso, difficile da attuarsi Questo comandamento diventa possibile se noi rimaniamo nel suo amore Se noi ci consapevolizziamo, ci coscientizziamo, prendiamo atto Facciamo memoria che lui ci ha amati per primi Che noi siamo tralci dentro, innestati nella radice madre Nella vita, nella vite che è Gesù Cristo E allora forti di questa certezza Possiamo camminare dentro il suo amore Tentando ogni giorno, quotidianamente, di vivere il suo comandamento Perché soltanto questo comandamento L'osservanza di questo comandamento Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato Ci permette di stare dentro la vita di Cristo Di stare dentro il suo amore E di chiedere qualsiasi cosa Se chiederete con un pizzico di fede a questo monte Ma con una fede vera Alzati e gettati nel mare Questo succederà Se rimaniamo nel suo amore Non possiamo chiedere niente che vada oltre Che sconfini questo amore del padre E se stiamo dentro a questo amore Riusciamo a operare cose grandi Perché non voi avete scelto me Ma io ho scelto voi E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto In quanto cristiani, in quanto siete battezzati Dobbiamo sentire l'urgenza L'impegno di una nuova evangelizzazione Si dice da molti anni a questa parte L'impegno di una testimonianza Questa testimonianza sarà autentica Fruttuosa Porterete molto frutti Se rimaniamo nel suo amore E viviamo nell'amore Verso di lui e verso gli altri Facci bene amici Buona Domenica nel Signore Buona Domenica nel Signore Grazie per le